Ehi la ciurma! Io sono Mazzetess e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Saints Row 4 Dopo tipo una vita Che non ci vedevamo io e questa bellissima ragazzetta Che si chiama? Non mi ricordo nemmeno cos'è questo gioco Marco88 ragazzetta cosa? Ti mando Foxy Ti mando Foxy a casa Dovete sapere che Marco tanto tu si è fissato con Five Nights at Freddy's e adesso parla solo di quello Ma facciamo la missione co-op Ah ho il controller voglio provare un attimo come funzeca Ah dobbiamo incraccare nei dossi Come l'altra giro Per qualche strana ragione Si Per qualche strana ragione sti alieni si annoiano a morte Quindi Fanno ste cose del cavolo Va bene Si annoiano se vogliono combattere Ah ci stai andando? No sto andando al duty shop Che non mi ricordo cos'è No sto andando direttamente là Dai Dobbiamo andare a prendere possesso di un negozio Sono un po' incapace col controllo Aspettami però perché io non sono capace Sono atterrato vicino a uno Utilizzerò lo sparapuzzette Non ho paura di usare lo sparapuzzette Dov'è che è? Di qua? Ci sono quasi eh Senti una cosa ma c'è Si dimmi tutto Ti ricordi se Saint Rove 4 è uscito primo o dopo cattivissimo me? Del primo Secondo me è dopo del primo No il 4 E dopo? Si ma del primo cattivissimo medici? Si Secondo me dopo si Ecco perché c'è lo sparapuzzette Cracca il negozio Inizia a craccare il negozio Vediamo un po' Craccato Ti piace La con 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 Guarda Guarda No sto cercando di craccarlo L'ho già fatto io Ah ho fallito Vabbè ci sei riuscito tu E mo? Oddio questa arma è difficilissima da controllare Y Allora cosa Difficile da contare Cosa acquistiamo? Ah no ma questo qua è di nuovo i vestiti Si non voglio i vestiti Perché l'abbiamo Cosa l'abbiamo hackerato a fare? Ma cosa cavolo? Si sta uccidendo Dove siete Ucciso 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 Si non blocca quella ferla su Che ne sta facendo arrivare un fracco Ok Dove? Eh ormai glielo ho distrutto Ma perché sono cucciato? Non voglio cucciarmi Ucciso Sto uccidendo un sacco di persone Che non sono persone va Va bene Oddio Ok Mi stanno uccidendo Ma perché sono alto così? C'è il basso Aspetta quanta Gente No sto uccidendo un civile Aiutami 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 Sto arrivando Che non sono capace Sto sbagliando tipo tutto qua Io comincio a vedere Tutto a grigio Ma quanta gente c'è? Dove? Chi crede sta sparando laggiù? Ultimo Ah uno di quei tizi Pan morto Perfetto Anche perché io sono abbastanza Lo innegato con sta roba qua Mi sa che torna la La vecchia tastiera Uccido un civile A caso Bleh Lol E quindi Cattura il seed comandante Dove è il seed comandante? Alla giù Ma io ho poca Anch'io non ho molta vita In realtà Ma perché ho preso Tante di quelle pizze in faccia Prima E qua sopra? E di là Non posso più correre Eccolo Aspetta Aspetta Wait for me Don't cry for me Argentina Dove Dove sei andato? Non era qua Dove Kaiser si è finito? Preso Ma dove sei? Era una palla gialla Il comandante Era una palla gialla E dunque Salve signorina Oh Ma no Stavo incontrando una signorina Porca miseria Marco Mi rovini sempre gli appartamenti Sì 3000 Sono salito di livello Cosa che dice? Avventura testuale Accoglio tutti per prendere la storia dei Ziniac Ah ok Sono tipo dei collezionabili Statue dei Ziniac Distruggere per ottenere denaro Quindi le statue dei Ziniac Le spacchiamo Ah eccola Signorina salve Salve vorrei Signorina Buongiorno Buongiorno Ma Dovevamo stare per sempre insieme Invece Dovevamo stare per sempre No Avevo le scarpe con i tocchi Muori E' finito il tempo delle mele Dove vai? La polizia ce la come Perché ho spappolato il cervello una Era la mia tipa Era la mia ragazza Cosa devo fare? Scusa Per fare il volo d'angelo Era il doppio salto No? Come che era? Vuoi fare un altro? Sì Oltre la soglia Cos'è oltre la soglia? Non abbiamo finito quindi Non abbiamo finito sta missione Ah ok così si fa No quindi dobbiamo andare di là? Sì Bisogna andare a trovare il resto degli amici E dove sono? Boh Ma Sto nuotando Mi corre per pochissimo Non so perché No signorina Non abbia paura Sono qui con lei Per sposarla Per vivere per sempre insieme Ma che chiese Devo spappolare un'altra donna Alza le mani questa Ah mi ha lasciato dei soldi Ok arrivederci Grazie è stato molto gentile da parte sua Contribuire alla nostra opera di bene Ma perché i poliziotti qua C'hanno sempre tipo delle Lamborghini assurde Perché siamo nella realtà virtuale Quindi La pula c'è i soldi qua Perché non c'è Renzo che si mangia tutto Perché i soldi sono infiniti Tranne per noi Sto sparando Lo spara puzzette Dentro il portale Ma non succede niente Ma io gli sto mirando Sto tipo non si ferma Non mi dà neanche i soldi Bel tipo Nella fenditura Io ti sto Sì Che fenditura Dove sei andato Marco? Tu fai sempre tutto Non si capisce mai niente Di quello che fa Marco Ok Grazie a tutti